Benvenuti a tutti, benvenuti in questa diretta sempre al volo. Sto pensando di farne sempre di più perché mi diverte il fatto di essere in diretta, mi diverte il fatto che non posso impostarmi niente, non posso sbagliare, non posso fare altro che andare a ruota e dire le cose giuste, anche perché qua non esistono tagli, non esiste niente, quindi è un livello di difficoltà superiore, ma soprattutto il caro nostro amico Zuckerberg premia tantissimo l'interazione live, quindi anche per far salire un po' questo algoritmo nella mia pagina, per far crescere l'engagement, però cercherò di fare sempre più dirette, sempre meno video montati. Non so, poi ditemi anche se vi piace o meno. Intanto ho messo il microfono perché ieri mi dicevano che a un certo punto non si sentiva, cioè in realtà nella diretta si sentiva bene il problema, poi ce l'abbiamo avuto quando siamo andati in registrazione, cioè nella registrazione non si sentiva bene l'audio, mi hanno detto metallico. Ecco, allora, oggi voglio parlare di un argomento che è molto spinoso, ma che secondo me è abbastanza interessante e vale la pena affrontare, ovvero la verità sulla formazione, cos'è la formazione veramente oggi, a cosa serve, chi sono i player più gettonati, chi sono i player da ascoltare, soprattutto cosa c'è dietro le quinte della formazione. E guarda, io sono vent'anni, come dico sempre, con le mani impastate nella merda, che faccio questo mestiere, che faccio formazione, faccio marketing, quindi qualcosina penso di poterti raccontare. E soprattutto qualcosina di divertente ho da dire. Ora, vediamo se c'è qualcuno connesso, pochissimi. Ok, comunque l'ho annunciata solo qualche minuto fa. Allora, formazione, parliamo nello specifico magari di formazione marketing, che magari è quello che mi riguarda più da vicino, ma quello che penso anche voi che mi seguite è il ramo che comunque preferite, anche perché poi c'è la formazione sull'immobiliare, la formazione per quanto riguarda il trading e via dicendo. Comunque, rimaniamo sempre nell'ambito di fare grana, col marketing, qual è la grossa ideologia che sta dietro alla formazione marketing? Le persone vogliono fare soldi, vogliono acquisire clienti, fare tutto quello che serve a fare soldi. Quando pare di soldi è molto più facile acquistare la fiducia delle persone, tant'è vero che la formazione trading è ancora oggi quella che va più gettorata in assoluto, è molto più facile farla. Perché? Perché le persone, ci sono gli opportunity seekers e oltre agli opportunity seekers, quelli che seguono gli opportunity seekers, quindi il gradino dopo, quindi quelli che non sono proprio opportunity seekers, ma che apprezzano il lato grana, che sono una preda molto facile di chi fa trading. Quindi diciamo che il trading è il numero uno per quanto riguarda la formazione oggi, cioè è molto più semplice fare formazione trading, e poi c'è subito dopo la formazione marketing. Anche nella formazione marketing il risultato non cambia, le persone vogliono fare grana, e visto che vogliono fare grana, vogliono fare soldi, è facile, è abbastanza facile entrare, ok, nel giro della formazione. Anche perché nessuno ti richiede un'abilitazione specifica per fare formazione marketing. Tutti, e ti assicuro tutti, perché tutti i grossi player che vedi, un giorno sono svegliati, e non solo i grossi, anche i piccoli, sono svegliati e ho detto, ok, oggi faccio formazione, e si sono messi a farla, cioè, né più né meno, è andata così. Però qual è la verità, ok? La verità della formazione è che c'è una grossa distinzione tra chi ti insegna a fare e chi sa fare veramente, cioè, mi spiego meglio, parliamo magari di formazione marketing, ok? Un formatore marketing che non ha mai fatto marketing se non per vendere i propri corsi di marketing, che valore ti può dare? Può essere solo un pappagallo che ha preso qualche libro, che ha fatto qualche corso, e ti fa il pappagallo. Ok, magari è bravo a reimpastare un attimino le nozioni e ti ha messo in condizione di dire, ok, guarda, questo ne sa. Ma ne sa cosa vuol dire? Ne sa perché ne sa più di te, che non capisci magari niente di quella materia, ok? È come se io andassi da un matematico che insegna matematica, e questo qua non sa fare matematica, ma la sa spiegare perché ha letto un libro. Io non ho le nozioni per giudicare, non ho gli strumenti per dirlo. È la stessa cosa succede nel marketing. Quando ho iniziato io, non ho iniziato subito a fare formazione, ma ho iniziato nel 1997 come tirapiedi, scribacchino, apprendista, calci nel culo, non prendevo una lira. Quello succedeva. Magari è successo anche a te nel tuo mestiere, che prendevi calci nel culo e non prendevi soldi. In realtà mi davano 50 mila lire alla settimana ed era un'agenzia pubblicitaria per cui io ero andato a lavorare d'estate e prima come tutto fare, perché era un'agenzia legata a una radio, perché la radio, come tu ben sai, vive di pubblicità, ok? La radio in realtà è soltanto un mezzo per vendere pubblicità, spazi pubblicitari, ok? Tutto quello che c'è in mezzo, l'intrattenimento, è fatto soltanto perché tra un intrattenimento e l'altro c'è qualcuno che ci caccia la grana perché tu gli vendi lo spazio pubblicitario. E man mano, quindi, sono entrato nella pubblicità, come dicevo, dico spesso, il mio primo approccio pubblicitario è stato vendere su carta una gita in battello nel Po, mi sembra 20 mila lire, se non ricordo male, e dove tu poi ti dovevi sopportare la vendita delle pentole. In sostanza, quello era. Ma sono arrivato molto più avanti alla formazione, perché prima ho dovuto fare tutta la trafila del marketing, ok? Quando a un certo punto, per me stesso, per migliorare, ok, quello che stavo già facendo all'inizio, non lo chiamavo neanche marketing, scrivevo pubblicità, cioè parlando chiaro, ho cominciato a interessarmi anche alle materie vendite, tutto fatto qui, a Torino, un corso per una scuola che si chiama Fondamente, e talmente poi sono entrato in confidenza quando il proprietario della scuola che faceva i corsi vendita ha cominciato a tenere qualche piccolo corso e niente, da lì è poi nata tutta la cosa. Ho continuato comunque a sporcarmi le mani col marketing, ho lavorato in tutti i settori, cioè, quando dico tutti, perché tutti. Quello che stai pensando in questo momento l'ho fatto, dagli spurghi della merda ai cimiteri, cioè io ho fatto tutto quello che si poteva fare come marketing, ok, ho avuto un sacco di clienti, un sacco di studenti, quindi negli anni mi sono formato così. Questa è stata un po' la mia storia. La verità della formazione è che oggi la maggior parte dei formatori, non tutti, è perché ti posso dire che ci sono persone molto brave che fanno sia la parte di consulenza, sia la parte di formazione, che sono molto in gamba, molto bravi, posso farti anche qualche nome, non c'è nessun problema, soprattutto nel copy, non puoi insegnare copy se non sei tu un copywriter, ok, cioè non sta in piedi sta cosa. Infatti abbiamo dei bravissimi copy che tra l'altro siamo tutti in un gruppo racchiuso di copy italiani, no? Quelli che sono un po', diciamo, più in vista, dove ci scambiamo consigli, parliamo tutto quanto, che sono veramente bravi, cioè anche tra di noi, guarda, mi hanno chiamato la landing, cosa ne dici di questo, ti piace questo corso? C'è questo cerco di circolo, ma qui in mezzo i big player non ci sono, perché questi qua non sono persone che si sporcano le mani, è molto semplice, insegnano, fanno formazione, insegnano perché fanno il pappagallo, fanno il pappagallo di qualcosa che hanno imparato. Questa è la vera verità, in Italia ci sono un sacco di cazzari, non lo dico per tirare giù gli altri per tirare su me, perché io sono l'ultima delle merde della formazione, non sono uno che può arrivare lì e dirti che sono il numero uno o con i numeri di un numero uno, non ce li ho, ho passato tanto tempo a fare il consulente, a fare marketing con le mani in pasta e non ho fatto il numero uno della formazione, però ti posso dire con certezza, posso farti nomi, non c'è nessun problema, che qua in Italia è pieno di cazzari, è pieno di cazzari, quindi la formazione, la vera verità sulla formazione è che bisogna, sì, provarla, provare anche i cazzari, come con le donne, con gli uomini, devi provare lo stronzo finché poi non trovi la persona giusta, la stessa cosa, che bisogna provare, bisogna sentire, bisogna testare, cioè non è sbagliato seguire più correnti di pensiero, sono dell'idea che anche se va contro i miei interessi, perché io vendo formazione, che ti dico vai dai miei concorrenti, invece no, la verità è che le persone devono farsi la loro idea, il concetto giusto della formazione è che tu devi informarti, aprire la mente, sentire quello che dice uno, quello che dice l'altro, è provare, quando una persona ti dice, devi fare come dico io e basta, se segui gli altri sei un coglione, automaticamente sei entrato nel turbine della formazione cazzara, ok? La formazione cazzara è quella che ti tira dentro, no disetta, ti tiene nel turbine, buttandoti dentro informazioni, ti istica, magari non te lo dici direttamente, ma ti istica a non seguire altre correnti, altre pensieri, altre persone. oggi abbiamo la fortuna di avere la libertà dell'informazione, che è una libertà enorme, pensate solo a 50 anni fa, ma guarda, anche solo quando ero piccolo, quando dovevi cercare qualcosa, prendevi le pagine gialle, andavi in biblioteca, quello potevi fare, oggi la verità è che siamo, possiamo, ok, avere tutto quello che ci pare, quindi siamo liberi e felici per questo, un attimino, che guardo solo una cosa sulla mia pagina, perché voglio capire se sono in diretta sulla pagina o meno, ok, intanto ditemi se si sente, tanto che controllo qui se ci sono, ok, non ci sono, non ci sono, ok, sì, sì, ci dovrei essere, perché ogni tanto mi fa gli scherzi, e non vedo, con questo programmino, non vedo chi è connesso, bene, comunque, vado avanti, poi al massimo vedrò dopo, quindi, stiamo parlando di, di, della verità sulla formazione, un'altra verità, è che la formazione cosa serve? In realtà, tu devi formarti, sia tecnicamente nel tuo lavoro, che, devi formarti per fare marketing, quindi per acquisire clienti, per fare più soldi, per fare grana, ma questo ti serve più che altro, per stare sul pezzo, ok, essere informato sul tuo lavoro, quindi studiare nel tuo lavoro, ti serve per rimanere sul pezzo, appena molli, appena ti siedi sulla sede, e dici, ok, non ho più bisogno, mi sono rotto le palle, automaticamente, avrai un crollo, è sistematico, è fisico, ok, non devi mai mollare, fin quando lavori, fin quando ti interesserà la tua professione, dovrai assolutamente, stare sul pezzo, per stare sul pezzo, devi metterti lì, e studiare, studiare, seguire, seguire corsi, stare sul pezzo, non è tanto poi, quello che tu fai con, con delle informazioni, certo, è ovvio che, che mettere in pratica, sarebbe, sarebbe meglio, ma, è quello che tu, farai, stando sul pezzo, perché se stai sul pezzo, sei più avanti degli altri, sei più avanti dei tuoi concorrenti, e per te stessi, è un motivo di miglioramento, quindi, io penso, l'idea che mi sono fatto, dopo tanti anni, che la formazione, la verità sulla formazione, è che, ti serve, per rimanere sul pezzo, ok, la prima cosa, poi, ti aiuta, ovviamente, a ottenere risultati, sembrerà stupido, e forse qualcuno, vorrà contraddire, questa mia idea, però, io sono straconvinto, torci convinto, che il primo motivo, di, di, della formazione, cioè, la prima cosa, è utile, la prima cosa, per cui è utile, la formazione, è appunto, per aiutarti, a stare sul pezzo, perché, mi sono accorto, dai tanti studenti, che ho avuto, che tutti quelli, che, fanno formazione, sono comunque sul pezzo, anche se non applicano, una perfezione, tutto quello che imparano, sono sul pezzo, in seconda battuta, bisogna seguire, una formazione, chiara, ok, non fumosa, dovete trovare, una persona, che vi dia, informazione vere, e subito applicabile, ricordatevi, queste due cose, vere, e applicabili, perché se le cose, non sono vere, le cose non sono applicabili, tutto quello, che state imparando, nella vostra testa, farà confusione, e la confusione, ciao Diana, sì sono io, Conan in persona, è un po' che non ci vediamo Diana, mi fa piacere vederti, quindi, stavamo dicendo, cose vere, e cose, da mettere in pratica subito, non dovete, mettervi, nel circolo, della confusione, della formazione, da setta, ok, se entrate in un turbine, se entrate in un circolo, dove, vi danno, sempre contenuti, a raffica, e non vi fanno mai uscire, a seguire, quello che c'è in giro, state tranquilli, che siete finiti, nella formazione, da setta, quindi siete con un cazzaro, ok, i formatori, sono persone, che, parallelamente, fanno, hanno le mani in pasta, ok, non vendono solo corsi di formazione, ma, fanno, fanno i consulenti, hanno fatto i consulenti una vita, sono imprenditori, cioè, i risultati li hanno ottenuti in più settori, non solo nel vendere corsi, perché vendere corsi, ok, ha un livello di difficoltà, ed è, non è che è così semplice, ma, voglio dire, non è che, ah, mi segui sempre, mi fa piacere, carissima, non è che, eh, vendere corsi, saper vendere, cellulari, auto, piuttosto che, eh, vendere servizi, vendere bottiglie d'acqua, insomma, è differente, ok, secondo, la, la mio modesto parere, devi, seguire persone, che hanno le mani in pasta, non a caso sono io, eh, adesso non vogliamo dire questi qua, però, ci sono anche altre persone brave, eh, ripeto, ieri parlavo, appunto, del lancio che ci sarà a breve, che si chiama Spacca Social, che, appunto, vuole fare, eh, lo sporco lavoro di fare zero, confusione, e soltanto risultati, ok, è un corso a quattro moduli, che uscirà, eh, questa sera, alle 23.59, si aprono i cartelli, i carrelli, scusate, da domani sarà possibile prendere un super pro, è un corso, che normalmente, dovrebbe uscire a mille euro, c'è una promozione super, anzi, tra l'altro, mi sono preparato anche questo, ansia, 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 usciva tra poco, l'ho fatto vedere a, a Valerio, che è un, un bravissimo copy, Valerio Conti, anzi, io poi, eh, sicuramente, gli, quando uscirà quel suo corso, ve lo giro, perché è veramente bravo, è uno dei numeri uno, del copywriting in Italia, uno che sa, sa veramente, cioè, ha fatto un botto, ha fatto veramente un botto di risultati, con, con, con i suoi corsi, cioè, bravissimo, gli ho fatto vedere, eh, Spacca Social, ha detto, mi dai un'opinione, è fighissimo, c'è un messaggio su, 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 su message, è fighissimo, mi piace proprio come l'hai impostato, soprattutto, c'è bisogno di questo, c'è bisogno di, di prendere il 20% delle cose che funzionano, e insegnare quello, perché, è una rottura di coglioni, ok, mettersi lì, a darti tante, soltanto nozioni fumose, che non servono, e poi tu non mappi tu, cazzo, devi metterti lì, e avere cose vere che funzionano, io, da adesso in poi, punterò tutto su questo, sarà il mio modo di differenziarmi dagli altri, cose vere che funzionano, ok, basta, fuffa, basta, niente, soltanto cose che funzionano, soltanto cose che tendono a risultare, soltanto cose chiare e semplici, ok, nulla di fuffoso, il corso, che, eh, lanceremo domani, quindi, è, composto in quattro mobili, i moduli, i mobili, non vengono ancora moduli, i mobili l'ho fatto, e, il primo modulo, è, eh, quello, dedicato, al format Facebook, che le ads non servono ad un razzo, ovviamente, sempre il mio modo di fare, sarà sempre così, non cambierò mai, lo prometto, il secondo modulo, è Face Fast, che è, un corso Facebook tecnico, che ti dà il 20% delle informazioni, che ti servono per ottenere risultati, quindi, tecnicamente, fai questo, questo e quest'altro, il terzo modulo, sarà Insta Start, fatto con l'amico Luca Zacchedu, che, per mestiere, segue gli account, è un growth hacker di Instagram, nel senso, segue gli account, Alessandro, Valerio Conti è una garanzia, Valerio Conti è il numero uno, ok, sono molto contento che, che stiamo collaborando insieme, stiamo cercando di fare qualcosa insieme, mi è piaciuto, cioè, a lui è piaciuto tantissimo, il mio modo di fare le cose, a me lui è sempre piaciuto, perché lo seguo da tanto, quindi, sì, hai ragione, lui, trasmette anche lui, è un altro dell'80-20, ti dà solo cose che servono, per quello ci siamo trovati, anch'io sono un copy da una vita, ma quanto lui, ed è bello, perché ci confrontiamo, proprio, siamo un gruppo di copy, Marcello Marchese, Marco Deveglia, siamo tutti lì, che ne parliamo, ed è bellissimo, un gruppo che magari poi vi posto, e stanno uscendo cose interessanti, il copywriting non è ancora in Italia, una materia di vendita agli imprenditori, quindi è un servizio di consulenza, che è dedicato a chi conosce la materia, ma lo sta diventando, piano piano, grazie agli sforzi anche nostri, che ci stiamo mettendo lì, dire, ok, ragazzi, il copywriting è questo, bla bla, quindi, sì Diana, è un'ottima specializzazione, ne sono convinto anch'io, quindi dicevo, il terzo modulo è Instastart, che faremo col buon Luca Zacchedu, che lui, appunto, è un grow hacker di Instagram, ovvero si occupa di far crescere gli account Instagram, quindi anche lì, sono cose che servono, apriti il profilo Instagram, ok, serve o non serve, cosa posso fare, cosa non posso fare, cioè parlandoci chiaro, le cose che servono per ottenere risultati, andando a togliere quello che non serve. Poi, per ultimo, ho aggiunto una cosa fighissima, che è la mia consulenza, ok, ovvero, mettersi lì, finito tutto questo, ok, messo in pratica, io arriverò sul tuo account Facebook, ti dirò, ok, guarda, questo, questo, quest'altro, non vanno bene, e, andiamo di metterlo a posto, ok, quindi, dopo nei commenti, vi metto il link, se volete iscrivervi al lancio, comunque, a mezzanotte, sia sulla mia pagina, sul mio profilo, via e me, dappertutto, spammerò il link per acquistare, in super promo. La tua dritta sulle interazioni, vediamo un po' qua, po' 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 po', ok, la tua dritta sulle interazioni, mi hanno messo in pratica il risultato, ottima visibilità organica, grazie, sì, è giusto, Diana, perché, è quello che bisogna fare, cioè, a livello base, ok, il marketing deve essere una cosa semplice, ok, quando inizi a approcciare il marketing, devi ottenere il risultato facendo cose semplici, fai questo, questo e quest'altro, poi, poi, quando arrivi ad avere risultati sotto questo aspetto, da lì inizia il complicato, bisogna ottimizzare i risultati, e gli diventa più difficile, gli iniziano i funnel più complicati, ma all'inizio, fannele un cazzo, devi solo fare le cose che servono, uno, due, tre, fatte bene, ok, devi avere chiare le idee per fare quelle quattro cose, che ti portano risultati, ovviamente non fatte con costanze e quant'altro, ma, non bisogna stare lì a cercare di fare le cose troppo complicate, mettersi in testa troppa roba che non serve a un cavolo, e lo dico contro i miei interessi, perché io vendo formazione, il vero formatore cazzaro, cosa fa? Tira fuori merda su merda, e te la fa comprare tutta, no, a step, il primo webinar che abbiamo fatto, le ads non servono un razzo, serve per farti capire che format devi avere su Facebook, boom, quello, ti faccio vedere i risultati che ho avuto io, te li dimostro, te li butto sopra, senza giro di parole, ok? Alessandro, vediamo cosa dice, credo che anche tu faccia parte dell'Olimpio dei copi valetti in Italia, sono convinto dal personaggio del tuo copio che hai realizzato per il tuo school, grazie Alessandro, guarda, io faccio fatica a definirmi un esperto di copi, non me lo sono mai sentito addosso questa cosa, chiaramente quando lo dicono gli altri è segnale che lo è, io in realtà non me lo sento molto, forse perché ci sono persone tipo Mimmo, che è una persona che è un bravissimo copi, è tecnicissimo, sa tutto di copi, io non so un cavolo, non sono molto tecnico, io ho una mia teoria che ho esposto anche a loro, loro mi hanno detto, guarda, c'è azzeccato proprio quello che faccio, mi viene un po' spontaneo dopo tanti anni, lo schema che seguo è più o meno il medesimo, non è che seguo, ci sono 150 schemi di copi da utilizzare, però il punto su cui mi concentro tantissimo io è quello di ottenere l'attenzione del lettore, che secondo me è tutto, quindi fare tutta la parte pre è ottenere l'attenzione del lettore, io mi concentro solo su quello, poi da lì sviluppo gli schemi, ma il copi è una cosa molto complicata da insegnare, quindi bisogna proprio puntare tutto sull'attenzione, è una cosa che dico anche in quel corso, che mi svolerò sempre di fare, quindi intanto ti ringrazio Alessandro per il complimento, oh ma mi piace un post diretto, stavo pensando di farla diventare una cosa continua, perché più che fare tanti video montati, mi piaceva l'idea di fare più dirette, poi chi le vede differita magari è un po' meno, però chi se ne frega, a me piace mettermi qua e parlare, però vi dicevo, dei quattro moduli, il quarto modulo quindi è una mia consulenza, ok, e poi il bello che vi arriverà a casa, i miei manuali, che sono tre, perché è la Bibbia delle Ads, che è nel primo modulo, poi vi arriverà il Face Pass, e vi arriverà in Instastart, tutto cartaceo, bello qua da tenere, la collezione, e in più tutti i corsi anche in DVD da collezione, da mettere lì, belli in mostra con la mia faccia, quindi, anzi, tra l'altro vi arriveranno nel mio box, è tutto griffato qua, anche te li vedete che scherziamo, e niente, sono dell'idea che questo sia un po' quello che farò adesso, intanto oggi volevo parlarvi un po' comunque della verità sulla formazione, che è questa, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, ora direi che è l'ora di salutarvi, l'ovvile diretta è grande, perché sì, sono fighe, anche a me piace un casino, devo dire la verità, riesco ad essere molto più, come dire, più in contatto con le persone a cui devo parlare, perché il video è bello, sì, mi piace, ne ho fatti tantissimi, metti davanti la telecamera, te lo pensi un secondo e poi lo fai, no? Questo è quello che succede, però, così hai il contatto con le persone, è molto più divertente, perché sembra quasi di fare formazione live, quindi tutto cambia, anche l'esposizione cambia, quindi tu pensi un attimino a quello che vorresti dire, ma poi tutto evolve in una maniera differente, perché comunque c'è il contatto con le persone, che è bellissimo, quindi io adoro farlo, e stavo pensando di fare meno video più diretti, quindi anche per me, per acquisire nuovi clienti, anche perché ne ho bisogno, ragazzi, devo fare il mio decimo milione di euro, scherzo, devo comunque, ho in mente di aumentare tantissimo la mia esposizione, per quanto riguarda il Facebook marketing, sto lavorando anche in un'altra nicchia, che sto coltivando piano piano, che è molto complicata, che è quella dei dentisti, ma non volevo mollare questa qua, quindi, ciao Repo, grande Repo, non volevo mollare Facebook marketing, tutto quello che riguarda i social, perché comunque lo faccio, non siamo tantissimi a farlo, lo porto avanti con energia, mi piace, quindi direi che questo sarà, bene ragazzi, se volete chiedere qualcosa ci sono, se no chiudo, ci vediamo domani, mi raccomando, anzi, ansia, ansia, sei ore e tre minuti, ciao Roby, ciao Roberta, tra sei ore, c'è il countdown per il lancio, ci sarà sabato, la possibilità di comprare, spacca social, in super promo, però poi lo tengo a prezzo più alto, ancora una settimana, quindi, se domani qualcuno è incasinato, in viaggio, a Pasqua, cazzi vari, se lo comprerà poi, e se lo pagherà di più, va bene ragazzi, spero che anche le, il mio modo di essere diretto, sia sempre una cosa, che vi faccia piacere, io sarò sempre così, sappiatelo, non sarò mai uno, che vi alliscia il pelo, ma sarò sempre uno, che vi dice, avanti tutta, ciao ragazzi, ci vediamo, statevi buoni, e soprattutto, buone, buone feste, non dico buona Pasqua, perché, eh, lo trovo ingiusto, però buone, buone feste, e ci vediamo domani al lancio, ciao! 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 Ciao!